Il nuovo Egitto del dopo Mubarak ha le prese con la complessa missione di costruire una democrazia, ma ognuno interpreta questa parola a suo modo. L'Egitto del dopo Mubarak sembra non conoscere le mezze misure. Dai salafiti che applicano sui manifesti elettorali come riferimento le foto dei mariti e delle loro candidate, con il riferimento votate per la moglie del signor Caio, alla giovane ragazza blogger egiziana che lancia una coraggiosa sfida ai conservatori pubblicando in rete una sua foto che la ritrae nuda. L'iniziativa di Alia Magda El Mahdi, detta anche Lolita, ventenne studentessa in comunicazione e media all'Università Americana del Cairo, da alcuni giorni fa discutere sul web e non solo. La sua immagine ha fatto il giro del mondo ed è finita anche sui quotidiani internazionali. Si definisce laica, libera, femminista, vegetariana, individualista, ma soprattutto egiziana e le sono bastate otto scatti dal titolo Fanari, arte nudo, per scatenare la bufera. Sono centinaia di migliaia i contatti, o meglio, le persone interessate alle sue immagini provocanti. Lei è con le calze autoreggenti e le ballerine rosse. Lei, senza veli, con alcune peccette gialle che le coprono le parti più intime e che sono un simbolo, dice Alia, della censura sulla nostra coscienza, la nostra espressione e la nostra sessualità. La lolita del Cairo si presenta come la compagna di Karema Amer, uno blogo regeziano condannato nel 2007 a quattro anni di prigione per aver insultato l'Islam. La ragazza assicura sulla sua pagina web di non aver fatto nulla di trasgressivo, ma di essersi solamente ispirata a modelli nudi che posavano alla facoltà di belle arti del Cairo negli anni 60 e 70. Insomma, l'Egitto del dopo Mubarak resta un rebus, come anche quale sarà in futuro il ruolo della donna nel paese? Forse la soluzione migliore potrebbe essere una via di mezzo tra la completamente scoperta candidata del partito Salafita e la completamente scoperta Alia. Grazie a tutti.